Miei cari amici, mi trovo in vigna, nella vigna di Maria Chaves, un luogo importantissimo non solo per la mia vita personale ma per la vita di tantissimi amici, benefattori, agronomi, enologi che hanno partecipato alla costruzione di questa vigna. Sono 23 ettari, su un pendio difficilissimo abbiamo dovuto lavorare tantissimo, come bisogna lavorare nella vita, incontrando pietre, difficoltà, ma quando c'è volontà, c'è progetto deciso, come nella vita di ognuno di noi, il progetto di vita di famiglia, il progetto di coppia, il progetto di lavoro e quando siamo convinti la provvidenza ci aiuta veramente. Allora cosa posso dire? Posso dire di ringraziare il Signore della vita perché pur tra le grandi difficoltà questo sogno si realizza lentamente ma con difficoltà gravi come la mancanza d'acqua, qui l'anno passato non è piovuto nulla, quindi fatiche enormi però la forza della vita, che è grandissima, la vita ha una potenza di radici enormi, ebbene lentamente, lentamente stiamo aiutandola a arrivare da produrre un frutto fra due, tre anni di buona quantità, di buona qualità. E questo devo dire grazie. Grazie Signore della vita, ma grazie anche a tutte le persone, amici che continuate a aiutarmi, aiutarci, i nostri enologi che si danno da fare, gli agronomi. C'è una consulenza che ama questa esperienza esperienza e la sogna anche come un'esperienza di futuro per l'Europa, perché siamo molto vicini all'Equatoria, quindi è un'esperienza limite della cultura della vita. E con questo pensiero, con questa fatica, ma con questa bellezza, io sono qui in mezzo alle piante che adesso stanno perdendo dopo le foglie, ma devo dire non bisogna mai mollare lungo l'arco della nostra vita di fronte alle difficoltà, ma essere decisi e convinti. E la provvidenza scriverà sulle righe storte di molte cose la vita diritta della vita di Dio. Bene, ringraziando il Signore della vita, perché questo è un prodigio, sì del lavoro dell'uomo, ma anche della sua forza, della sua bellezza, con questo motivo, con questa forza andiamo sempre avanti con molta, molta fiducia. Grazie a tutti.